Amici di People's Poker è in corso il Day 1B del People's Poker Tour qui al Casino di Campione e come potete vedere mi trovo nella sala detta ormai Tugurio perché si respira un'aria di serenità però con molta molta concentrazione e sono venuta a curiosare più che atto a sentire come si trovano le poche donne che stanno giocando questo main e qui con me una grande giocatrice Valeria, Valeria come stai? Benissimo grazie, anche tu? Senti ma come ti trattano questi uomini? Ma guarda a me fa sempre piacere giocare con un tavolo dove ci sono solo tutti uomini perché hanno sempre un livello molto basso di considerazione della donna quindi tu fai credere effettivamente di essere molto nitti poi magari sai quando arriva al momento giusto capiscono insomma li educhi, hai capito? Esatto io aspetto poi vabbè molte volte vanno loro però lì pochi in porta Senti come sta andando? Ma siamo a 27.000 ero scesa subito a 18.000 vedendo i K, gli A, sì una cosa del genere Sì il tavolo non è facilissimo nel senso che non ci sono grandi nomi al tavolo però hanno poca idea di quello che fanno quindi le size sono molto alte, tu vuoi tenere il piatto ma non ce la fai quindi passi anche preflop a sodama, a sofante, a livelli così bassi insomma non mi va di andare rotta subito quindi portiamo pazienza Come invitare le donne che non abbiate paura perché è un gioco che possono giocare tutti quindi invitiamole Sì 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 venite venite, io mi sento tanto sola e poi non è così difficile giocare con gli uomini anzi Allora ti lascio tornare al tavolo in bocca al lupo Non si dice crepi, mi hanno detto oggi che non posso dirlo quindi ok grazie Ciao